benvenuti a questo canale youtube allora oggi dopo tante richieste che mi hanno fatto andremo a vedere un sito web molto interessante che si chiama Fibermap che praticamente ti permette di vedere le mappe della connessione in fibra di tutta Italia scusate adesso vi faccio vedere come funziona mettendo la vostra regione e i vostri dati potete riuscire a vedere praticamente la distanza da casa vostra alla centrale perché ho fatto questo video? perché mi hanno chiesto di specificare meglio la differenza tra la cabinet come tecnologia e la fiber to home allora diciamo adesso in linee generali che la cabinet se voi state cioè quella che praticamente fino alla centrale arriva la fibra poi dalla centrale a casa vostra arriva il doppio di rame e se voi siete abbastanza vicini dalla centrale telecom non avete grosse perdite di velocità perciò sarebbe quasi equiparata alla fibra ottica dentro casa perché quasi perché adesso molte compagnie sono arrivate fino a a un giga di velocità in download ok allora in quel caso naturalmente la potete esclusivamente raggiungere soltanto con la fibra dentro l'appartamento cioè la fiber to home ok come la vedete adesso io purtroppo non vi posso non ciò non mi sono preparato perché questo video non era in lista non mi sono preparato delle immagini da farvi vedere comunque voi capite perché adesso vi dico subito che la fiber to home sta arrivando in quasi tutti in tutta italia piano piano entro il 2020 diventerà tutta fibra dentro l'appartamento e voi quando abitate andate in giro nella vostra città se vicino alle palazzine vedete una scatoletta di colore grigio grande come un quadrato quella è praticamente l'hub della fibra ottica già se magari in qualche zona della vostra città vedete questi piccoli hub sui muri dei palazzi quella stanno iniziando a cabrare la zona con la fibra dentro l'appartamento ok ripeto purtroppo non era preparato questo video e perciò non vi posso non mi sono preparato delle foto da farvi vedere per quanto distinguere la la situazione adesso magari poi se vi se vi proprio interessa possiamo anche andare a vedere su google immagini qualcosa ok da da poter farvi capire comunque ritornando al nostro video abbiamo detto che praticamente allora se voi siete abitate via tal di tali e stai vicino alla centrale telecom anche se l'ave se avete la cabinet non ha una grossa differenza eccetto naturalmente se l'operatore ti propone la fibra a un giga in download allora quella è la differenza che non potrete raggiungere col doppino di rame ok c'è da dire anche che adesso gli operatori non vuoi fare pubblicità a nessun operatore perciò non dirò quale operatore lo fa cioè che io ho sperimentato perché me l'ha fatto dentro casa mia ti mette proprio anche addirittura il doppino di rame nuovo per assicurarti una velocità più pulita ok poi dipende naturalmente se gli appartamenti sono stati costruiti dieci anni fa è difficile che te lo che te lo fanno ma tipo io mio zio abita in un palazzo dell'epoca fascista è normale che ha più di 40 anni è normale che ti devono fare questa questo diciamo aggiornamento sistematico perché naturalmente non reggerebbe la potenza ok detto questo adesso andiamo a vedere come funziona questo 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 sito ammettiamo che voi abitate nel lazio abitate qua potete scegliere la provincia diciamo roma la città andiamo a potete anche digitare qua basta scrivere roma ah non te lo da ok vabbè roma aspettiamo che carica oggi purtroppo è un po lento allora sì siamo oltre noi a noi scegliamo naturalmente la via adesso metteremo la via aspetta aspetta eh e vi appare questo schema ecco lo stato dei servizi disponibili a questo indirizzo fibra ottica vdsl cioè la cabinet la ft tc velocità massima 100 mega in download e 20 mega in upload e poi c'è naturalmente la evds che un'espansione della della cabinet sempre tecnologia in rame 200 mega 20 mega ok qua c'è dettagli i vari dettagli questa non andiamo a vedere perché è espressamente rivolta alle aziende è costosissimo e inutile andiamo a vedere e questa naturalmente è la vecchia tecnologia che dice saturo saturo eccetera 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 ok scusate eh oggi ho un po' di mal di coda allora mmm andiamo a vedere la la 200 mega dettaglio diciamo stato attivo identificativo identificativo armadio e centrale e c'è il codice identificativo della centrale poi distanza dell'armadio e della centrale in metri poi brand questo vabbè non vi interessa a voi ok e qua dice velocità massima in windows stream e in upstream ok la vera reale ok allora adesso vi spiego una cosa quando voi andate per strada e vedere quelle classiche cabine di coloro grigio e rosso che non dovete sapere già come è però io ve la faccio vedere per sicurezza eccola qua allora diciamo subito che questa è telecom e questo è un altro operatore 90 percetto è fast web o vodafone ok quelle grigi sono telecom queste qui sono altri operatori qui adesso qui vediamo se riesco a farvi ingrandire apri in un'altra scheda vediamo se riesco a farvi no comunque qui vedete un praticamente un codice che praticamente corrisponde a questo codice qua ok perciò voi mentre camminate se abitate tipo ho fatto l'esempio qui a via bravetto eccetera eccetera voi camminate più o meno vedete le i vari armadietti che vi trovate e tramite il codice capite qual è dove siete allacciati voi ok ok e li calcolate che naturalmente se siete distanti dalla centrale a 52 metri capite bene che va più che bene va stra bene ok se cominciate a essere distanti 300 400 metri comincia a diventare un problema ok questo non non contattate non fate niente perché questo è rivolta ai professionisti eccetera voi questo è puramente divulgativo cioè nel senso che riuscite a calcolare quanto veramente voi potete riuscire a aumentare la velocità così quando i classici call center canaglia vi contattano e vi rompono le scatole per darvi e per offrirvi delle praticamente delle degli abbonamenti inesistenti o fantasmatici voi capite già se vi voglio fare detto alla romana la sola oppure veramente potete riuscire ad avere la velocità che voi che dicono di avere ok ricordate che sempre purtroppo ricordate che è sempre teorica cioè nel contratto voi sapete già sicuramente che nel contratto ci dice che è teorico ok perciò e poi voi insomma non siete bambini leggere bene insomma le specifiche minime di velocità eccetera 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 naturalmente poi se vi interessa vi faccio vi spiego anche esiste un programma dell'agcom che misura la velocità effettiva di download e upload dove con questo programma che vi potete scaricare e fa fede ufficiale potete chiedere un risarcimento potete chiedere tante belle cose all'operatore è obbligato a rispondervi è una cosa un po' lunga da spiegare in caso vi interessa vi faccio vi faccio un tutorial anche su quello ok adesso andiamo fiber database clicchiamo qua e qui praticamente dovete mettere mi sono dimenticato che voi non potete accedere perciò niente scusate me l'ho dimenticato e così insomma potete capire bene più o meno quanta velocità potete effettiva potete raggiungere ok con questo video è stato tutto spero di essere stato utile commentate il video e chiedetevi ulteriori informazioni se vi servono ciao e a presto